Nella migliore delle ipotesi, una promessa da Pulcinella, nella realtà una beffa. Con questa sensazione si è svegliato stamattina l'istituto scolastico Gattapone di Gubbio, all'indomani del Consiglio regionale, che di fatto gli ha negato per il 2014 l'attivazione di un indirizzo alberghiero. Studenti ed insegnanti si sono riuniti in assemblea con il dirigente scolastico Naderi, per capire cosa significava quell'emendamento della giunta regionale, che non dà subito l'alberghiero, ma lo promette per il 2015-2016, previo tavolo di concertazione con gli altri territori sedi oggi dello stesso indirizzo. Quel previo puzza di magheggio, secondo molti qui, di escamotage politically correct, per non dire netto non concesso e rinviare la palla al prossimo piano regionale dell'offerta formativa. Forse ci potrebbe essere anche una possibilità, però, allora, se le motivazioni dette apertamente per non dare l'indirizzo alberghiero a Gubbio è perché costerebbe troppo e perché ancora i locali di Santo Spirito non sono pronti, io penso che se la motivazione è questa, allora me lo darai dal 2015-2016 quando i locali saranno pronti. In realtà non è stato detto questo, è stato detto, sarà dato dal 2015-2016 dopo che sarà stato attivato un tavolo di concertazione con tutti i territori interessati, quindi città di Gubbio, città di Castello, Assisi. Quindi non capisco perché, visto che non è mai stato fatto nel corso degli anni, chiedere l'attivazione di un indirizzo, per attivare un indirizzo, chiedere il consenso degli altri territori, perché debba essere fatto adesso. Quindi penso che sia soltanto una scusa e che quindi alla fine è un modo per posticipare la decisione a dopo le votazioni, secondo me. Non dello stesso avviso il dirigente scolastico che dopo aver incassato la sconfitta tenta di ripartire dai cocci, prendendo ciò che di buono l'emendamento della Giunta regionale porta con sé, ovvero un'apertura di credito sull'alberghiero per il 2015-2016 che ora deve essere coltivata e resa realtà. Esco ora da un'assemblea con docenti, con alunni che chiaramente faticano a vivere questa come una mezza vittoria. La vedono come una sconfitta perché il no per il 2014 è dato. C'è una porta aperta. Noi abbiamo intenzione di chiedere sin dalle prossime settimane all'assessore Casciari l'attivazione di questo tavolo di concertazione, perché siamo convinti che Gubbio non solo meriti, ma abbia anche presentato un progetto che d'altronde la stessa provincia ha riconosciuto conforme alle linee guida, quindi quando si dice conforme alle linee guida si dicono tante cose, e chiederemo che questo tavolo venga attivato nel più breve tempo possibile. D'altronde il nostro progetto era un progetto di alberghiero quasi a costo zero. Questo si è tirato addosso un po' di critiche ingenerose anche durante la seduta del Consiglio, perché appunto non sono state previste spese diciamo più onerose e che comunque la provincia non avrebbe potuto finanziare, ma oggi sono tanti gli alberghieri in Italia che si orientano verso l'utilizzo di strutture esterne. D'altronde una scuola che ha un hotel a 5 stelle davanti e un hotel a 4 stelle dietro e un comune che ha un centro servizi, Santo Spirito, l'idea che per fare l'alberghiero qui si debbano spendere 300-400 mila euro è secondo me un'idea vecchia. Con l'alberghiero il Gattapone perde anche la sua autonomia scolastica. Se già quest'anno è in reggenza, il piano regionale da ieri lo ha accorpato con l'ITIS, fatto mal digerito da studenti e docenti che oggi protestavano con striscioni fuori dall'edificio scolastico e che senza un indirizzo trainante come poteva essere quello dei servizi per enogastronomie ed ospitalità temono fortemente per le iscrizioni future.